Do you know something? So, that means Jane is... Non lo so, non lo so. Cosa? 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 Ice axe! That way! Hands on the ground now! Do it! Grazie a tutti. 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 Ma se l'essere disumano in Estremo Oriente non era Jin, chi era? O cosa era? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.